Quando si vince è sempre importante, poi quando vinci un derby è ancora meglio, però sono partite che ci servono noi ancora per migliorare dal punto di vista tactico, tecnico, fisico e penso che i ragazzi, quelli del primo tempo e quelli del secondo tempo, comunque hanno interpretato gare in modo giusto, abbiamo messo in pratica quello che abbiamo provato in allenamento e penso che questa è strada giusta. Ma è giusto anche perché i ragazzi si allenano tutti e tutti bisogna dargli possibilità di farsi vedere e comunque di giocare e fare la partita, è normale, poi naturalmente quando cominciano le partite ufficiali e tutto, poi dopo io dovrò fare le mie scelte come sempre perché sono pagato per quello, ma è importante i giocatori che giocano di meno che comunque si trovano pronti sempre perché si può essere determinati anche a giocare uno spezzone di partita, non c'è bisogno di giocare tutta la partita, questo deve essere la mentalità. No, non posso parlare della mia squadra, non voglio parlare degli altri perché mi interessa solo la mia squadra, penso che oggi abbiamo fatto bene, abbiamo ancora tanti margini di miglioramento perché ci sono alcuni giocatori che sono ancora sotto condizione come due attaccanti, come Carlos e Luis che sono al 50-60%, però hanno fatto intravedere anche oggi le loro possibilità e le loro qualità, anche altri giocatori, comunque stiamo lavorando su quello e per l'inizio del campionato saremo pronti. Ibero lo aspetto ancora? No, io non lo aspetto nessuno.